È una zona rossa, seppur piccola, l'unica della Toscana, il comune di Chiusi, che si trova in provincia di Siena. Il primo focolaio si era sviluppato in un asilo, il Sacro Cuore, una settimana fa. Da lì il numero dei casi è cresciuto in maniera esponenziale e molto velocemente. Sono state infatti scoperte due varianti del Covid, brasiliana e sudafricana, particolarmente contagiose. La zona rossa, scattata da domenica 7 febbraio, sarà in vigore per una settimana. Nel frattempo è stato organizzato uno screening nella popolazione, grazie ad ASL, ANCI e Regione Toscana. Circa 5.000 su 8.000 abitanti, le adesioni. Cosa ne pensa di questo screening attivato da Regione, ANCI e ASL, insomma è veramente comune? Vista la situazione penso che hanno fatto bene. La vedo un'iniziativa molto utile, grazie all'impegno del sindaco, che penso si è dovuto dibattere a molto per arrivare a ciò. Siamo un pochino invasi da vari tipi di virus, confidiamo di vaccinarci presto e di arrivare a una soluzione. Un augurio che faccio per tutti. In famiglia in quanti avete deciso di sottoporvi al test? Tutti, noi siamo sette persone, tutti quanti. Tra figli, nipoti e tutti. Vi siete dati un po' una spiegazione del perché questa esplosione di contagi in questa zona? Non lo so come mai questa esplosione di contagi in questa zona, devo essere sincera. Forse essendoci la stazione ci sono più un'antidieto di persone, non lo so. Oppure è una cosa che doveva capitare. Questo virus ci preserva degli scherzi, non indifferenti. Mi auguro che finisca presto e che tutto si possa risolvere nel miglior modo possibile. Purtroppo ce l'aspettavamo perché erano diversi giorni che ci stanno dicendo che questi contagi aumentano. Io lavoro qui a Chiusi e quindi con tutte le persone con cui sono stato a contatto mi viene quasi il dubbio. Quindi sono qui per fare il tampone, proprio per scongiurare il peggio. Però ovviamente siamo tutti sul chi va là. Perché penso che l'unico contributo che si possa dare, visto che siamo impotenti su tutto il resto, è quello di essere presenti quando ci sono certe iniziative che serviranno sia a noi ma poi serviranno a tutti. Spaventano queste varianti che sono state individuate? Ma per chi forse ha sottovalutato fino ad ora la cosa può darsi di sì, ma per chi ha preso coscienza da subito che la situazione è grave, è una cosa seria, è quasi una cosa che era da aspettarsi.